Più equità e riservatezza sono questi due principi che ci hanno spinto ad utilizzare i fondi del Governo per realizzare per le famiglie in difficoltà sotto forma di pacco spesa settimanale. Più equità perché il pacco spesa è uguale per tutti, va a coprire le necessità primarie di ogni famiglia, avrà una cadenza settimanale e non è un aiuto una tantum. La riservatezza alle persone che vorranno venire a ritirare il pacco comunale su appuntamento presso il centro sarà garantita il massimo della privacy con un percorso dedicato a loro. A Climenti gli sarà consegnato a casa. In questa azione di sostegno alle famiglie l'amministrazione comunale che ha organizzato questo centro di distribuzione alimentare è supportata in modo qualificato dai volontari della Caritas con la loro grande esperienza. Il braccio operativo della consegna è affidato alla Croce Rossa, alla Misericordia e al Gruppo Comunale di Protezione Civile. Come sindaco ci tengo a ringraziare a nome di tutti gli imprenditori che hanno messo a disposizione servizi e donati prodotti, i volontari della Caritas, della Croce Rossa italiana, della Misericordia, del Gruppo Comunale di Protezione Civile e tutti i cittadini che hanno fatto donazioni al Comune o che le vorranno fare nel conto corrente intestato al Comune con la causale dell'emergenza Covid-19. Questo modello, questa organizzazione che abbiamo creato sarà uno dei lasciti di questa emergenza. Rimarrà nel tempo per tanti mesi e accompagnerà chi è in difficoltà fino a che ne avrà necessità. Questo è importante, questo la nostra comunità deve garantire. Questo è quello che dobbiamo dire con forza che nessuna famiglia sarà lasciata sola. Si deve sentire accompagnata dalla comunità. Questo è il messaggio che deve partire da Sansepolcro. Questo è il messaggio che deve partire da Sansepolcro.